Andrea Rasmus Revisore Che strano momento. Stiamo uscendo da una pandemia, ci ritroviamo a una guerra qui in Europa, tra cap e collo. Questo sta scombinando le nostre vite, il nostro modo di vedere la vita. Io dovevo portare questo TEDx qui nel 2020 e invece sono qua nel 2022. Dovevo parlare del mercato senza denaro e del mercato con il denaro. Nel frattempo però sono successe delle cose che hanno confermato questa mia proposta. Sto parlando di fenomeni sociali abbastanza importanti. In particolare negli Stati Uniti sta succedendo una cosa che viene chiamata come il Big Quit. Sta arrivando anche in Italia. 21 milioni di americani hanno lasciato il posto di lavoro. Lasciare il posto di lavoro significa non essere licenziati ma decidere di abbandonare quel lavoro, un po' di sicurezza, che avevano. Allora i sociologi stanno spiegando questo fenomeno. Stanno dicendo che in realtà quello che stiamo facendo noi stiamo andando a rivalutare il bilanciamento tra la vita lavorativa, il mercato con il denaro, e la vita invece personale, che è il mercato senza denaro. Ora per spiegare questi concetti devo fare una premessa. La premessa che faccio è che la nostra cultura ha contrabbandato il concetto che il successo fosse uguale al denaro. Cioè una persona che ha denaro ha successo, una persona che ha successo ha denaro. Ammetto, l'ho creduto pure io, ci ho creduto anch'io colpevolmente. Oggi che ho la barba bianca e un po' di cicatrici sulle spalle, ho un altro concetto invece. Io ho capito, anche nel mondo lavorativo, che non è la persona che ha lo stipendio più alto ad aver successo, ma è la persona che fa quello che fa con passione. È la passione che rende di successo la persona, indipendentemente da quello che guadagna. Ora mi devo presentare perché così si capisce, siccome non ho la propria strada, qual è stata la mia strada che mi ha portato a questo pensiero. Io sono nato in un piccolo paesino al centro della Sardegna, in Sabarbazzezeuro. È un paesino che si chiama Laconi, molto carino. Poi ho studiato in ingegneria, mi sono laureato con l'Ode in una università del nord a Trieste. Mi sono trasferito in Veneto e in Veneto ho preso un master in business administration in una delle più rinomate scuole di business che ci sono qui nel Veneto, che qua non è soltanto nel Veneto ma in tutta Italia. Quindi ho aggiunto a questa parte più tecnica una parte un po' più umanistica e quindi ho approcciato il coaching e oggi ho un sogno che è quello di laurearmi in sociologia. Allora ho incominciato dieci giorni fa perché ho fatto il talk e sembra anche con un buon voto, quindi probabilmente mi sono già prescritto, quindi partirò per realizzare questo sogno. Questo, tutto questo è il mercato senza denaro di Claudio, perché qui non abbiamo parlato di denaro, qui stiamo parlando invece soltanto di quelle che sono state le mie scelte e come mi hanno trasformato. È chiaro che però il mercato col denaro è incalzante, c'è anche qui, e infatti nella stessa strada, in intervalli, troviamo che dopo la laurea in ingegneria, cosa ho fatto? Ho incominciato a lavorare in una multinazionale tedesca. Successivamente sono passato in una piccola media azienda italiana, questo prima del master, dopo il master mi sono spostato e sono andato in una multinazionale svizzera. Chiaramente sempre per posizioni apicali. Dopodiché sono andato in una piccola media azienda veneta, che ho nel cuore, sono persone meravigliose, ho visto anche qualche suo ciò, ma sono tutto più contento, e lì c'era un passaggio generale in corso. E questo momento, questa esperienza, mi ha aiutato a maturare una convinzione. Addirittura ho creato io, ho aperto una mia azienda, che aiuta le piccole e medie aziende italiane a fare il passaggio generazionale. Questa stessa azienda poi la utilizzo perché, siccome credo nei ragazzi e nelle start-up, la utilizzo funzionalmente come business angel. Ecco, questo è un po' il film della mia vita, no? E qui siamo a Like & Movie. E Like & Movie mi ha fatto riflettere sul ruolo che noi ci diamo, oppure a qualcun altro ci dà, e come questi ruoli siano o meno in sintonia con la nostra vita. Siccome volevo parlare del mercato del denaro e del mercato senza denaro, e dovevo farlo nel 2020, facciamo un po' un passaggio. In Like & Movie abbiamo dei film, nei film di fantascienza c'è quasi sempre la macchina del tempo. Entriamo nella macchina del tempo e adesso, hop, ci troviamo nel 2020. Cosa volevo raccontarvi? Beh, volevo raccontare che esiste un mercato del denaro. Ma attenzione, questo qua lo conosciamo tutti, perché sono le aziende. E le aziende cosa fanno? Le aziende hanno delle risorse, usano i soldi per comprare delle risorse, per creare un prodotto-servizio che vendono e mettono sul mercato. Per poterlo puoi quindi vendere e soddisfare il bisogno di denaro col fatturato. Quando ricevono questo denaro, fanno il passaggio successivo, cioè reinvestono questo denaro per altre risorse, per creare altri prodotti per mettere in circolo nel mercato col denaro. È chiaro che hanno un unico obiettivo. L'unico obiettivo delle aziende è quello di chiudere il bilancio in positivo. Punto. Poi c'è anche il mercato senza denaro. E questo già è un pochettino più nascosto. Anche qui ci sono risorse, ma le risorse ci sono tutte risorse di prima, ma non c'è il denaro. C'è il tempo, ad esempio, le competenze. Allora, quando noi mettiamo insieme tutte queste cose, creiamo un prodotto-servizio. E questo prodotto-servizio siamo noi. E quando ci siamo rigenerati, cosa facciamo? Ci scambiamo, anzi, scambiamo emozioni. Perché dobbiamo soddisfare dei bisogni, che possono essere di considerazione, di affetto, tutti questi bisogni che abbiamo. E quando riusciamo a soddisfare questi bisogni, ci carichiamo un'energia bellissima che ci rimette in circolo ed evolviamo. Allora, questi due mercati sono in grossa competizione. Soprattutto, non solo, ma soprattutto per due fattori fondamentali. Il tempo e gli obiettivi. Il tempo è chiaro, abbiamo 24 ore, tutti quanti, e otto ore dormiamo, otto ore lavoriamo, ci restano otto ore per il mercato senza denaro. Ma in realtà dobbiamo andare al lavoro. Perché non è pagato questo andare al lavoro. Ma dobbiamo anche mangiare, quindi colazione, pranzo, cena, dobbiamo andare a fare la spesa. Insomma, il tempo nel mercato senza denaro molto spesso è drammaticamente compresso. E poi ci sono gli obiettivi. Più che dire che il discorso degli obiettivi che noi sappiamo del mercato col denaro è quello proprio di fare più denaro. E nel mercato senza denaro è realizzare i nostri sogni, che è importante realizzare i nostri sogni, è importante capire che ci deve essere una priorità. Questo voglio passarvi. Sono molto più importanti i nostri sogni. Quindi noi dobbiamo mettere al primo posto gli obiettivi del mercato senza denaro. Perché questo crea il benessere. Ecco, questo dovevo dire nel 2020 e arriviamo qua e c'è TEDx. Like a Movie è sobbalzo perché Like a Movie mi dà una possibilità di lettura ancora più articolata. Perché introduce nella sequenza, introduce il regista, il protagonista, il ruolo, ma anche la scena. E qui ho l'illuminazione. Ma cavolo, ma noi abbiamo quindi questa nostra vita, il nostro film, sempre con l'allegoria del film, il film della nostra vita, noi abbiamo due scene, mercato col denaro e mercato senza denaro. E ci spostiamo continuamente da una all'altra. E all'interno di queste scene abbiamo dei diversi ruoli. Il regista, ad esempio, è colui che ha un messaggio da trasmettere. Tutto il film gira attorno a questo messaggio che lui vuole trasmettere. Poi c'è il protagonista, che è un attore. L'attore è bravo perché aiuta, aiuta il regista a trasmettere esattamente quel messaggio. è molto bravo. Ma attenzione, il messaggio non è dell'attore. Il messaggio è del regista. E poi ci sono le comparse. Le comparse, in realtà, occupano uno spazio. Questo spazio li costringe a fare quello che gli viene detto. Loro fanno quello che gli viene detto. Quindi, ecco che abbiamo questi ingredienti. Per capire come funzionano queste cose, vi porto due miei episodi della mia vita. Chiaramente uno nel mercato col denaro, l'altro nel mercato senza denaro. Nel mercato col denaro, mi ricordo quando ho lasciato la piccola mezza azienda italiana per andare nella multinazionale svizzera, dovevo prendere come posto quello di vice direttore generale. Perché il direttore generale di quella realtà che era in Italia, di radiproduzione, quel direttore generale doveva andare negli headquarter proprio perché faceva un passaggio verso la Svizzera. E quindi io sarei diventato direttore generale. Bene, dovevo iniziare a settembre. E cosa succede? Che quasi metà, fine agosto, mi viene comunicato dal mega direttore generale svizzero, cioè proprio il top del top fantoziano, mi chiama e mi dice sa ingegnere, ci sono stati dei cambiamenti. L'azienda per cui dovevo vedere vice direttore generale è stata inglobata nella filiale italiana. Ma lì c'è già il direttore generale. Quindi sa che cosa? Se la dovesse un po' dimenticare il fatto di diventare direttore generale. Lì sarà responsabile di stabilimento. Ecco, chiaramente lì nel mercato col denaro la regia non era nelle mie mani. Quindi cosa ho fatto io? Un po' così. Attenzione, poi mi hanno detto non si preoccupi, perché lo stipendio è quello che abbiamo concordato. Meno male, insomma. Insomma, io ho lavorato con queste persone, abbiamo portato l'efficienza delle aziende a un livello molto più elevato, 120 persone che hanno lavorato insieme, perché a me piace lavorare con le persone e lavorare soprattutto insieme. E siamo arrivati a un punto molto elevato. Tanto è vero che mi hanno anche premiato per questa cosa qua. Allora, il punto però era che non ero il regista, sono stato un bravo attore, avevo un buono stipendio, ma non ero il regista. Per fare questa performance, nello stesso momento, mi sposto al mercato senza denaro. e nel mercato senza denaro avevo a quel tempo, c'era mia moglie con due bambini. Oggi sono cresciuti, cioè mia moglie e i miei figli sono qui, sono felicissimo che siano qui, belli grandi. Allora, in quel momento di conseguenza, io uscivo la mattina del lunedì e tornavo a casa il venerdì sera. Beh, è inutile dire che in queste condizioni essere regista nel mercato senza denaro era impossibile. Allora cosa dicevo? Vabbè, non c'è problema, io faccio il bravo protagonista nel mercato senza denaro, ma sabato e domenica. Ma non funzionava, perché in realtà, sei su sette giorni, cinque giorni non ci sei, non sei neanche una comparsa, sei una scomparsa. Ecco che mia moglie, per fortuna una moglie così, abbiamo ragionato su questa cosa e abbiamo deciso di fare un passaggio, un passaggio diverso, cambiare lavoro. E avevo due opportunità, la prima era quella di trovare, cercare, mi metto sul mercato, cerco un lavoro che mi dia esattamente lo stesso stipendio. L'altro invece dire, no, aspetta un pochettino, è più importante che io torno ogni sera a casa, ma anche eventualmente uno stipendio basso, perché la prima, quella di cercare un posto che mi desse lo stesso stipendio, avrei voluto portare via parecchio tempo, uno o due anni, li avrei persi. A questo punto abbiamo fatto la scelta, che è la seconda, grazie appunto a mia moglie, che mi ha supportato. Questo è stato il mio big quit. Ecco che capisco, gli americani, e non soltanto gli americani, adesso anche in Italia sta arrivando questa tendenza. Io l'ho fatta tempo fa. In quel momento, ho ripreso in mano la regia del mio mercato senza denaro. Io adesso, con la mia azienda, vado in giro per le aziende, parlo con tantissimi manager, e mi capita di trovare dei manager che mi dicono, Claudio, sai, io sto male qua, sto veramente male, è pazzesco, io il lunedì, ho veramente i crampi allo stomaco, vorrei non venire qui. E gli faccio, beh, scusami, che tipo di scelte puoi fare? Eh, ma io non posso cambiare lavoro, perché sai, non trovo un posto che mi dà lo stesso stipendio. Ecco, io queste persone, le vedo in gabbia, è come se fossero fatto attorno a loro una gabbia, e la cosa incredibile è che non sono consapevole che questa gabbia ha la porta aperta. Magari è stretta questa porta, ma ce l'ha aperta, bisogna fare una scelta. Ecco, io questa scelta l'ho fatta, non sono più nella multinazionale, non guadagno più quei soldi, ma una famiglia di cui sono estremamente orgoglioso. Ho potuto fare tante cose, ho scritto dei libri per ragazzi, ho fatto la mia azienda, quindi sono diventato regista nel mercato col denaro, addirittura. E poi ho anche, sì, ho anche realizzato qualche sogno, in particolare avevo un sogno, quello di essere un TEDx speaker. Ed eccomi qua, finalmente devo dire. Ora, tutto questo per dire che, effettivamente, a volte noi ci troviamo in luoghi aridi nella nostra vita. e quando ci troviamo in questi luoghi aridi dovremmo fare un po' di mente locale e cercare di comprendere quale sia il mercato su cui veramente puntare. E il mercato su cui veramente puntare è il mercato senza denaro. E dobbiamo lottare, lottare per riprenderci la regia in quel mercato. Credetemi, siamo tutti liberi di farlo, perché avere dei sogni e diventare il regista per realizzarli è una cosa estremamente appagante e vi posso assicurare che vi può rendere anche felici. Grazie. Applausi